Sarà interrogata domani dal pubblico ministero Stefano Gallo la donna proprietaria dell'auto che ieri all'Aquila ha travolto sei bambini uccidendone uno. La 38enne è indagata per omicidio stradale mentre il mezzo è stato sequestrato. Sarà ora una perizia tecnica a determinare le cause della tragedia. Ieri intorno alle 14.30 la donna aveva parcheggiato l'auto nel cortile della scuola materna della frazione Pile, giusto il tempo di riprendere i suoi due bambini. In macchina era rimasto il figlio maggiore, un dodicenne. Per cause ancora da accertare l'auto che ha un freno a mano elettronico si è sfrenata, ha percorso una discesa nel cortile della scuola e ha sfondato la recinzione del giardino dove alcuni alunni stavano giocando. Il mezzo guidato da nessuno ha travolto sei bambini. Tommaso di quattro anni è morto durante il trasporto in ospedale. Due bambine sono state portate in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Una è ancora in prognosi riservata mentre l'altra sarebbe stabile. Un altro bimbo ferito è al bambin Gesù della capitale e due sono al San Salvatore dell'Aquila. Tutti e tre sarebbero fuori pericolo di vita. Altri bambini si sono procurati dei graffi durante la fuga in quei momenti di panico. Oggi nel capoluogo abruzzese, bandiere a mezzasta, il sindaco Biondi ha proclamato il lutto cittadino. È veramente da un dolore che non si può neanche raccontare. Lo dico in parte da rappresentante delle istituzioni, in parte da padre. Ci poteva essere un qualsiasi nostro figlio lì dentro e questo è un elemento davvero struggente. Conosco personalmente i genitori di una delle due bambine che ha i gemelli, sono persone per bene, a modo come tutte, come la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa città e non oso neanche immaginare cosa stiano passando in queste ore. Messaggi di cordoglio anche da parte del ministro dell'istruzione Bianchi e del governatore Marsilio. I circa 40 bambini che frequentano la scuola materna Pile e Primo Maggio saranno trasferiti in un'altra struttura.